Ciao a tutti, un benvenuto benvenuto dal team RMV e benvenuti a questo nuovo video. Prima di iniziare, ti chiediamo di un like sul video. Questo ci aiuta molto con il algoritmo YouTube. È davvero importante, soprattutto per considerare che abbiamo anche recentemente abbonato questo nuovo canale che è crescita. Se non l'avete già fatto, ascrivetevi al canale e per qualche informazione contattate con noi. Puoi trovare i nostri contatti sul video o lasciate un commento qui sul YouTube. Grazie! Se vuoi anche vedere tutti i video precedenti, sono sul canale vecchio e ho messo il link nella descrizione. Certo, oggi siamo sul Casino Betfair, dove vi mostro il nostro software roulette, in aczione per battere la roulette francese, che viene con software Playtech. In solo 4 minuti facciamo un eccellente profit di 25 euro, in una non anche molto facile sessione, dove ci spingiamo con la strategia di 20 centi. La migliore strategia, che non siamo mai tanti di parlare, è avere tempi corti sessioni, che sono sempre un'advantaggio per il giro. E ora, due parole dedicati a chi non conosce noi ancora e chi non conosce il nostro software roulette. software roulette. Siamo il team RMV. Il nostro software roulette è stato testato per anni e sempre updatato. È ora in versione 3, che viene con due interfacce, una per i computer personali e un'altra per i computer. Quindi può essere usato su tutti i dispositivi. È stato migliorato a più di 3 milioni di calcolazioni al tempo, quindi è molto potente. e anche garantiamo la sua invisibilità nei occhi dei casini online, sia per il fatto che non è un bot automatico e anche per come è creato il suo algoritmo. Il suo algoritmo è creato di essere 100% invisibile nei occhi dei casini online. e anche per il suo algoritmo. Siamo il software completato con un metodo di usaggio dettaglio. E abbiamo anche l'assistente ai nostri usati. Per qualsiasi informazione, contattiamoci a noi, trovate i nostri contatti sul video. Grazie e ci vediamo la prossima! 4 NERO 4 NERO 5 NERO 10 NERO 6 NERO 7 NERO 10 NERO 10 NERO 8. Nero 22. Nero 21. Rosso 29. Nero 14. Rosso 29. Rosso 29. Rosso 28. Nero 36. Rosso 28. Nero 31. Nero 31. Nero 8. Nero 11. Nero 21. No 32. Nero 33. Nero 34. Nero 35. Nero 35. Nero 27 rosso, 20 nero, 4 nero. 31 nero. 32 rosso, 20 nero, 19 rosso, 27 rosso, 15 nero, 5 rosso. 12 rosso, 12 nero, 15 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 nero Grazie a tutti